Salwa, eccoci YouTube, ho fatto un live Ho fatto un po' di sottotitolo, ho fatto un tipo di telefono e ho fatto un po' di sottotitolo e ho fatto un po' di sottotitolo come buon labano Parlate italiano? italiano? no no no, morocco siamo in live Twitch Italia siamo in live streaming Twitch Italia come stai? come stai? siamo in morocco è tutto ok? siamo qui per le vacazioni, le vacazioni grazie grazie, grazie non c'è nessuno, ma grazie 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 E' un po' più bello, un po' più bello. è piaciuto è piaciuto è piaciuto è piaciuto è piaciuto guarda con le basi hanno fatto si è piaciuto la basi è piaciuto noi vediamo l'ej lampa se fosse un giro il verano un uomo buongiorno 20 gram 5 euro la mano lascia la mano un uomo Sì. Sì, siamo arrivati in un paio, siamo arrivati in un paio di un paio di un paio di un paio. un po' di tutto un po' di tutto è stato un po' di più qui c'è l'ora che c'è un po' di più un po' di più che vengono che vengono come lo scopi non lo so che vengono non lo so ne vengono non lo so che vengono ... Sì c'è un paese. Un sforzo non è perfetto. Non sono più tante. Ma no, non. Ma non sono igliosa, ma non è ingliosa. Non è incinta a dire. aspetta la parte grande è il suo gioco. Al-Tlijarke è affichata, ma ancora forte. Buono un sforzo e guiano 300 metri 50 euro. Oggi non è la prima cosa? un progetto Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Grazie per aver guardato il nostro canale.